Questo è l'imprendi promotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Perché con MIFI 2 c'è un grande rischio di compressione dei margini? Come spiegare i costi della tua consulenza ai clienti? Perché un elemento importante da cominciare a tenere in considerazione è il tuo costo orario? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendi promotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 26 dell'imprendi promotore podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. Le tue recensioni, i tuoi feedback per me sono estremamente importanti per continuare a migliorare il valore dei contenuti che ti sto offrendo. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendi Promotore Academy, la prima academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendi Promotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it slash academy. Ripeto, www.imprendipromotore.it slash academy. Academy scritto con una C e con una Y. In questa serie di puntate dell'Imprendi Promotore Podcast mi sono interrogato su quali possano essere le principali sfide che il consulente finanziario è chiamato ad affrontare. Ne è uscita una serie di sei puntate dove ho avuto modo di individuare, isolare ed analizzare, cercando sempre di dare alla fine delle soluzioni, ciò che in questo momento potrebbe rallentare la crescita della professione. L'ultima sfida che ho preso in considerazione è probabilmente la sfida delle sfide, la compressione dei margini. Il settore negli ultimi trent'anni ha registrato una costante riduzione dei margini. A dire il vero ha subito prima di tutto una trasformazione delle modalità con le quali il consulente finanziario veniva remunerato. Dalle front fee, up front, che era il metodo di remunerazione che ha contraddistinto gli inizi della professione, fino a poi all'evoluzione della management fee che ha portato il settore poi a godere anche di un flusso di ricavi costante. Il flusso di ricavi costante ha permesso indubbiamente di, da un lato, migliorare e di molto anche quelle che sono le cosiddette competenze tecniche dei consulenti finanziari. Dall'altro lato però ha fatto progressivamente dismettere o disimparare anche quelle che possono essere delle competenze legate alla vendita e all'attività commerciale che invece erano delle caratteristiche tipiche della professione agli albori. Ma oggi con MIFI 2 sembrerebbe proprio necessario ritornare in parte anche a recuperare proprio quelle doti commerciali affiancandole delle doti tecniche o delle competenze tecniche evolute. Mi riferisco ad esempio a tutta la sfera di competenza legata alle tematiche patrimoniali che oggi pur costituendo delle competenze cosiddette accessorie e che quindi non vengono remunerate direttamente dai clienti in realtà lavorano moltissimo sul tema della percezione che la clientela può avere del consulente finanziario a cui si affida ma soprattutto posizionano anche il consulente finanziario e lo differenziano rispetto anche ai propri diretti competitor. Nella puntata di quest'oggi dell'Imprendi Promotore Podcast cercherò proprio di analizzare la sfida della compressione dei margini e soprattutto cercherò di dare degli spunti su come superarla e vincerla. Perché? Perché effettivamente ciò che sta accadendo nel mondo della consulenza finanziaria di fatto è una sorta di déjà vu. Ovviamente è un déjà vu non legato al settore specifico ma è un déjà vu perché quanto è già accaduto in altri settori e anche settori che vivevano anomalie positive importanti e come fra poco scoprirai anche il settore della consulenza finanziaria ha sempre vissuto un'anomalia positiva rispetto ad altri settori merceologici e anche il settore della consulenza finanziaria sta rientrando, come si suol dire, nella norma. Io faccio sempre una riflessione con i consulenti finanziari che si formano ad esempio con me. La consulenza finanziaria, il settore della consulenza finanziaria, vive una condizione di indubbio vantaggio. Il primo vantaggio, che è un vantaggio incredibile e che spesso i consulenti finanziari danno per scontato ma che in realtà così scontato non deve essere, è proprio il fatto che la loro impresa di consulenza finanziaria comincia a fatturare ma soprattutto a generare ricavi, perché questa è la cosa più importante, dal primo istante in cui il cliente consegna loro il denaro. Cioè nel momento in cui un cliente consegna al consulente finanziario il proprio denaro da quel preciso istante l'impresa di consulenza finanziaria del consulente comincia a generare ricavi e questo è un vantaggio straordinario, perché? Perché nel mondo normale, come amo definirlo io, ma che è il mondo che peraltro da tre anni e mezzo a questa parte sto frequentando da imprenditore, la sequenza tipica con la quale avvengono i fatti economici dell'azienda sono i seguenti faccio un'offerta, negozio l'offerta, attendo che l'offerta venga sottoscritta dal committente, in questo caso dal cliente, viene erogata la prestazione, viene emessa la fattura, si incrociano le dita perché il momento in cui viene messa la fattura non coincide spesso e volentieri con il momento del pagamento e poi c'è questa attesa legata appunto al momento in cui la fattura viene pagata e questo tipicamente, chiedo scusa, è esattamente quella che è la sequenza di fatti economici che l'imprenditore, alla quale l'imprenditore è sottoposto e che può determinare il successo o l'insuccesso della propria azienda. Perché? Perché un tema rilevante nei fatti di impresa, nella vita di impresa, è il tema del cash flow, del flusso di cassa. Tanto è vero che gli imprenditori americani sono soliti dire che cash is king, è la cassa che è il re. Perché se ci pensi, quante aziende oggi emettono fatture ma non incassando poi hanno situazioni debitorie molto importanti. Questo fatto del poter generare ricavi dal primo istante in cui il cliente affida il proprio denaro consulente finanziario è un fattore straordinariamente positivo nella vita dell'impresa del consulente. È solo che il consulente spesso e volentieri non se ne rende conto. Non se ne rende conto perché, ti faccio un altro esempio, che è un esempio che solitamente utilizzo durante i miei corsi di formazione anche questo, se io decidessi di andare a Santiago di Compostela per un mese quest'estate per fare il viaggio che dei Pirenei mi porterà a Finisterre devo necessariamente prevedere che a luglio, ovvero nel mese precedente, e a settembre, ovvero nel mese successivo, all'agosto, che è il mese dove intraprenderò questo viaggio, devo prevedere di creare del fatturato proprio per compensare anche questo buco temporale determinato proprio da agosto quando io mi assento per appunto fare il viaggio di Santiago di Compostela. Ebbene, nel caso del consulente finanziario questo problema non si pone, nel senso che il flusso costante di ricavi che genera la sua attività gli permette tranquillamente di potersi anche assentare dal proprio lavoro senza doversi preoccupare troppo di dover colmare appunto il gap temporale di non attività, perché a prescindere che un consulente finanziario faccia o non faccia comunque il flusso di ricavi arriva. E questo è un tema centrale nelle riflessioni e nei ragionamenti che farò in questa puntata del podcast. Perché? Perché nel momento in cui un consulente finanziario si trova con la famiglia a sciabolare con lo champagne o con lo spumante al 31 di dicembre è in grado con una ragionevole confidenza anche di poter pianificare molto bene l'anno che verrà anche e soprattutto in termini di ricavi proprio perché salvo sconvolgimenti particolari al portafoglio o cigni neri, ma che fortunatamente sono abbastanza rari diciamo che da imprenditore è in grado di poter stimare con una ragionevole confidenza quale sarà il proprio fatturato per l'anno a venire e questo gli consentirà di fare tante attività di programmazione in termini di budget, in termini di spesa o di investimenti insomma, tutto ciò che invece nel mondo normale, in quello imprenditoriale il fare il budget non è più inteso come il bilancio bensì come il cercare di portare a casa dei risultati per permettere alla propria azienda di investire e quindi questo è un tema che a mio modo di vedere deve essere sfruttato dai consulenti finanziari non a caso anche nel mio libro dell'imprendi promotore ne parlo spessissimo e comunque sia più la logica è imprenditoriale più dobbiamo immaginare che vi possano essere delle voci importanti nel bilancio del consulente finanziario che prevedono appunto degli investimenti e soprattutto degli investimenti in marketing ma di questo ne ho già parlato in altre puntate del podcast e continuerò a parlarne nelle prossime puntate sull'importanza del generare risultati attraverso l'intraprendere attività che però sono state pianificate adeguatamente e soprattutto prevedono anche degli investimenti economici l'altro vantaggio importante che ha il settore della consulenza finanziaria indubbiamente è anche il fatto che ad oggi il mestiere di consulente finanziario la libera professione di consulente finanziario è comunque una professione che per unità di sforzo prodotta è in grado di ottenere ancora ritorni economici molto molto importanti un consulente finanziario che arrivi a regime in termini economici regime di benessere finanziario mettiamola così certamente lo raggiunge con sforzi inferiori rispetto ad altre libere professioni i quali possono essere l'avvocato o il dottore commercialista ai quali è richiesto molto più tempo e molti più anni per poter raggiungere i medesimi risultati ecco questi due elementi sono due elementi importantissimi che oggi rappresentano una positiva anomalia di questo settore ma che attenzione con l'andare del tempo questa positiva anomalia o questo vantaggio competitivo se vogliamo definirlo così pian pianino ma neanche tanto pian pianino comincerà chiaramente a ridursi perché? perché il tema della MIFI 2 è questo elemento esogeno che in linea con quanto sta accadendo anche negli altri settori sta dando fortissime spallate a quelle che possono essere l'opacità che indubbiamente ha caratterizzato per certi versi il settore della consulenza finanziaria e che anche ha consentito di poter prosperare quindi il fatto di far venire meno questo velo di opacità quindi di rendere più simmetriche le informazioni tra industria e mercato porterà la competizione ad aumentare e inevitabilmente anche i margini a diminuire quando penso al tema dei margini però penso anche che se effettivamente per unità di sforzo prodotta i ritorni economici dei consulenti finanziari sono ancora molto importanti è perché principalmente l'attività del consulente finanziario è ancora un'attività e continuerà ad esserlo sicuramente un'attività consulenziale ma anche non dimentichiamolo un'attività commerciale molto spesso nei miei incontri e nelle mie conferenze vengo avvicinato da consulenti finanziari i quali mi dicono bello il tuo libro bello il fatto che tu hai coniato questo termine dell'imprendi promotore però noi siamo diventati consulenti e io rispondo loro no attenzione intanto finché non si completerà il processo per il quale voi sarete pagati per ciò che fate per i clienti e non per ciò che offrite e oggi e tutt'oggi questa professione viene remunerata in virtù degli strumenti che mette a disposizione dei clienti quindi strumenti di gestito strumenti di assicurativo eccetera difficilmente si potrà concludere compiere e chiudere questo cerchio legato al tema della trasformazione completa da promotori finanziari a consulenti finanziari ma anche quando questo processo si dovesse concludere e si concluderà ben presto è evidente che il consulente finanziario si troverà a dover promuovere i propri servizi di consulenza è un qualcosa che è molto differente dal promuovere uno strumento un fondo sicuramente è un qualcosa di molto più complesso ecco perché continuerò sempre a considerare l'attività professionale del consulente finanziario un'attività sì di consulenza ma con una forte componente una forte anima anche commerciale e proprio rispetto a quest'anima commerciale da sempre mi capita di leggere libri sulla vendita sul marketing eccetera ma in particolar modo in un libro di Tom Hopkins che è uno dei guru americani che si è sempre occupato di formazione sulla vendita mi ha sempre colpito questa definizione ovvero Hopkins definiva l'attività del commerciale come la professione difficile meglio retribuita e la professione facile peggio pagata ovvero come potrai aver ben inteso più diventa complessa la professione più giustamente è meglio retribuita perché perché questo è la cartina di tornasole del fatto che se io mi trovo da consulente ad affrontare situazioni complesse è evidente che ho bisogno di avere a disposizione di aver maturato avere a disposizione delle competenze aver maturato delle esperienze tali per cui è giusto che io mi faccia remunerare in maniera molto più diciamo importante rispetto semplicemente al distribuire degli strumenti come avrai capito anche il tema del valore che il consulente finanziario va distribuendo se continua ad essere legato al prodotto ma ancora di più all'asset allocation che è diventato il nuovo prodotto che ha sostituito i prodotti singoli che si vendevano una volta in questo caso valore ce n'è molto molto poco perché ormai anche l'asset allocation come prodotto viene di fatto realizzato attraverso piattaforme in maniera molto più efficiente ed efficace di quanto non possa fare un essere umano e sicuramente con costi più più bassi quindi il tema della percezione del valore diventerà centrale nel sostenere la marginalità della propria impresa di consulenza ecco perché diventa di fondamentale importanza mettere fieno in cascina nella cascina delle competenze e quindi vuol dire cominciare ad investire ancora di più su competenze che possano permetterti di migliorare tutta quella che è la parte imprenditoriale e tutta quella che è la parte di conoscenza patrimoniale che ti consentirà appunto di essere percepito in maniera completamente differente da come il mercato ha percepito il consulente finanziario sino ad oggi un altro tema che è comunque centrale nei ragionamenti che voglio fare con te legati appunto alla marginalità è proprio questa percezione del valore perché perché l'estratto conto verità è in dubbio che porterà i clienti a fare una serie di considerazioni quando parlo di estratto conto verità mi riferisco appunto al documento che in base alla MIFID2 verrà inoltrato ai clienti e che riporterà espresso non in valore percentuale ma in valore assoluto quanto loro pagano per il servizio di investimento e di consulenza che gli viene erogato dalla società mandante in questo caso per il tramite del consulente finanziario ma verranno evidenziati anche i ritorni economici che la mandante avrà e o anche i ritorni economici che il consulente finanziario riceve per la propria attività e questa è una cosa è un elemento di straordinaria novità che avvicina il mondo della consulenza finanziaria il settore della consulenza finanziaria agli altri settori dove questi principi di trasparenza ormai esistono da tantissimo tempo ma che porterà inevitabilmente il cliente a cominciare a ragionare se il proprio consulente finanziario è caro oppure è costoso allora cerchiamo di capire che differenza c'è tra caro e costoso allora quando mi riferisco al termine caro mi riferisco a un qualcosa che significa che costa troppo rispetto a quello che dà o rispetto alla qualità percepita nel senso che quando noi percepiamo che il rapporto qualità prezzo di un bene o di un servizio non è adeguato rispetto a ciò che stiamo pagando in questo caso siamo immediatamente prodighi nel definirlo caro quando invece siamo di fronte a una situazione diversa ovvero ad un bene ad un servizio che costi veramente tanto in questo caso definiremo questa cosa come costosa siamo circondati letteralmente da un sacco di esempi di cose care e cose costose alcuni esempi una bottiglia da un litro di vino da tavola a 20 euro spesso e volentieri la consideriamo carissima mentre una bottiglia di champagne di don perignone da 500 euro è costosa ma probabilmente li vale tutti o quantomeno nel percepito collettivo nell'immaginario collettivo questa cosa li merita vale anche per la bottiglia ad esempio di Sassicaia oppure spostiamoci nel mondo dell'automotive una Ferrari ultimo modello a 850 mila euro è sicuramente molto ma molto costosa conseguentemente io non me la posso permettere ma posso per esempio permettermi una Fiat 500 da 18 mila euro però attenzione questa non la comprerei mai perché nel mio percepito 18 mila euro per una Fiat 500 probabilmente sono denari che non vale la pena di investire o di buttare in questo caso perché a quella cifra magari trovo chiaramente di meglio e questo è un tema molto molto importante perché i consulenti finanziari spesso e volentieri si trovano a coabitare con altri consulenti finanziari sugli stessi clienti perché come ho avuto modo di dire anche in altre puntate nel momento in cui un cliente scopre i vantaggi di avvalersi della collaborazione di consulente finanziario gli è abbastanza naturale poi rivolgersi anche ad un secondo se non addirittura ad un terzo ed è proprio qui che MIFI 2 da questo punto di vista potrebbe creare qualche noia ma anche di converso qualche opportunità ai consulenti finanziari perché perché quando il cliente comincerà a confrontare rispetto a ciò che paga quanto tiene dai due rispettivi professionisti è molto probabile che uno dei due apparirà caro e uno e l'altro invece magari apparirà costoso ecco l'augurio che ti faccio è che tu possa sempre essere percepito come costoso poi magari sarà il cliente a dire non mi posso permettere un servizio così costoso ma alla fine certamente non non uscirà con l'idea di strapagare un qualcosa per cui non sta ottenendo il dovuto l'estrato conto verità inoltre porterà i clienti di fatto a paragonare immediatamente la professione del consulente finanziario a quella di altre libere professioni ti faccio sempre un altro esempio il cliente che affida un milione di euro a un consulente finanziario scopre che sta pagando delle fee intorno al 2% quindi 20.000 euro di cui il 50% di questi 20.000 euro ovvero 10.000 euro vengono di fatto stornate al consulente finanziario il consulente finanziario ha visitato questo cliente 5 volte in un anno ebbene nel momento in cui il cliente di fatto va a contare il numero di volte che ha visto il consulente finanziario e lo divide e dividerà questi 10.000 euro per il numero di volte si renderà conto che ogni visita gli sarà costata 2.000 euro e questo creerà non poche fibrillazioni nella relazione che il cliente ha con il consulente perché perché il cliente sarà portato a paragonare l'attività del consulente finanziario ad altre attività libero professionali penso al dottore commercialista e immediatamente il pensiero che farà è ma io non sto pagando così tanto il mio dottore commercialista ecco che credo che sia molto importante con la clientela sia argomentare e spiegare i costi della consulenza in quanto ciò che vede il cliente è esattamente ciò che è la punta di un iceberg di una serie di attività che vengono svuote dal consulente finanziario ma che spesso e volentieri non sono comunicate o non sono comunicate adeguatamente ma addirittura molto spesso il consulente finanziario stesso che le dà per scontate nel momento in cui tu dai per scontato una cosa quando chiedi lo sconto di una cosa sei portato ovviamente a non dare valore o un valore adeguato a questa cosa rispetto a questo tema non più tardi di quattro mesi fa ho avuto modo di registrare un video che è andato su LinkedIn sul come spiegare i costi della consulenza finanziaria e quindi senza voler ripetere alcuni concetti che ho messo nel video ho estratto la traccia audio di questo video e te la metto intanto a disposizione qui sul questo podcast te la farò sentire fra qualche secondo per poi riprendere i miei ragionamenti relativi appunto alla compressione di margini ecco la traccia del video di come spiegare i costi della tua consulenza costi 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 c'è molta fibrillazione in questo momento tra i consulenti finanziari sul tema costi visto che l'estrato conto verità è in arrivo in realtà però io credo che sia molto importante prendere il toro per le corna e affrontare immediatamente il tema dei costi cercando di far ragionare ai clienti di portarli da un concetto che per loro è molto chiaro che è quello di prezzo che stanno pagando per la tua consulenza ad un vero e proprio concetto di valore che stanno ottenendo da te proprio grazie alla tua consulenza perché se il cliente continua a rimanere sul prezzo è evidente che paragonerà il tuo servizio ad un prodotto e notoriamente siamo stati tutti quanti i clienti lo siamo tuttora ogni volta che noi cerchiamo di acquistare un prodotto ovviamente cerchiamo di acquistarlo in tutta convenienza cercando di appunto spendere di meno ma andiamo ad analizzare insieme con i clienti il costo della consulenza e andiamo a cercare di capire di quali elementi è composto ecco io ne ho individuati quattro quattro elementi che ti consentiranno di poter intavolare alcune riflessioni e alcuni ragionamenti con il cliente sul tema costo della consulenza da un'altra prospettiva il primo elemento da tenere in considerazione è sicuramente il prezzo dei prodotti beh questo è abbastanza facile da raccontare ed è soprattutto abbastanza visibile ed intuibile al cliente quindi direi di passare al secondo pilastro dei quattro che ti vado ad elencare il secondo pilastro il secondo elemento è rappresentato dal tempo quanto tempo impiegheresti caro cliente per fare quello che faccio io per te se dovessi farlo tu ricordati che per raggiungere le mie competenze e la mia professionalità avrei bisogno di tempo ed il tempo che dovresti impiegare per studiare sarebbe probabilmente tutto il tuo tempo libero a disposizione che parliamoci chiaro oltre ad essere poco e quindi prezioso avrebbe sicuramente un costo molto più alto del mio e il mio costo racchiude in realtà tutta la consulenza che ti fornisco terzo l'impegno quotidiano nel cercare di fare in modo che il tuo investimento che il tuo denaro il denaro che tu mi hai affidato sia investito correttamente rispetto a tutti gli obiettivi finanziari che tu ti sei dato grazie al mio aiuto tu probabilmente non lo vedi questo lavoro perché è un lavoro da back office da dietro le quinte ma ti posso garantire che è un lavoro molto impegnativo che talvolta crea parecchie tensioni perché i mercati non li si governa ma si cerca di fare in modo che le soluzioni di investimento siano coerenti ma soprattutto tendano a cercare di raggiungere i risultati e gli obiettivi che ci siamo dati e ti posso garantire che talune volte è anche molto noioso ecco perché tanti decidono di affidarsi ad un consulente finanziario proprio per evitare di impegnare il loro tempo libero in un'attività impegnativa noiosa e che molto spesso anche richiede parecchi nervi saldi e crea non poche tensioni quarto qui probabilmente trovi la voce più costosa delle tre che è legata al tema del rischio e soprattutto del controllo del rischio scegliere strumenti finanziari che dopo magari qualche anno si rivelino inefficienti è molto rischioso e proprio perché è molto rischioso rischi facendo da te da solo di crearti dei danni che sono difficilmente poi recuperabili proprio perché una volta che gli anni sono passati sono passati e se magari hai come obiettivo il raggiungimento di un'integrazione ad esempio alla pensione cinque anni trascorsi pericolosamente magari utilizzando degli strumenti inefficienti sono cinque anni buttati letteralmente via e che non tornano più per questo fare una pianificazione sbagliata rischia di procurarti dei danni a volte irreparabili ed è per questo che il valore del consulente è appunto nel cercare di guidarti e nell'assumersi per te anche dei rischi e dei rischi controllati il valore che viene generato da un professionista è praticamente molto ma molto di più del costo che oggi stai sostenendo prova a vederla un attimo in prospettiva è vero che un consulente costa ma quanto ti costerebbe in termini di mancati risultati il non avvalerti di un consulente ciao alla prossima mi auguro che la riproposizione della traccia audio del video e quindi delle quattro motivazioni da dare ai clienti per poter spiegare i costi della consulenza possa esserti utile in questo periodo sappi che il tema della compressione dei margini però può essere anche evitato in virtù della tua capacità di far percepire il tuo brand sul mercato questo accade tantissimo per altre libere professioni penso alla professione legale io vengo da Padova ci sono due notissimi avvocati Nicolo Ghedini e Pietro Longo gli avvocati di Berlusconi i quali sono dei professionisti molto affermati ebbene in termini di competenze tecniche probabilmente si equivalgono al miglior avvocato di Padova che però è conosciuto solo sulla piazza di Padova ma la loro parcella è sicuramente molto molto più elevata perché perché la differenza è data appunto dal brand dal loro brand il brand in un certo senso è se tu ci pensi è il sovrapprezzo che sei disposto a pagare per ottenere un bene e un servizio che sono già disponibili sul mercato ma il brand in questo caso nel caso di Ghedini e Longo ma potrebbe essere anche nel tuo caso in futuro potrebbe essere potrebbe rappresentare la polizza assicurativa sul rischio e prodotto del servizio questa è una bella definizione di brand per questo è molto importante comunicare migliorare le proprie competenze perché perché nel momento in cui il tuo brand viene riconosciuto chi si rivolge a te avrà la sensazione di avere meno rischi rispetto ad un altro professionista ed è proprio per questo che tu potrai anche permetterti di poter aumentare il tuo prezzo oppure sostenere il tuo prezzo in un mondo di prezzi che sono sempre decrescenti per lavorare a personal brand però è necessario avere una strategia e soprattutto una strategia di comunicazione una strategia di comunicazione che ti consenta di arrivare a più persone di farti riconoscere come autorevole e credibile ma nel contempo però questa autorevolezza e questa credibilità dopo deve anche essere sostenuta nella realtà dai fatti cioè dalle competenze che nel frattempo avrai acquisito allora io penso anche che in termini di scenario la compressione dei margini perché questa è una domanda che spesso e volentieri mi fanno i corsetti finanziari dove arriverà da chi proverrà proverrà dalle mandanti proverrà dalle richieste dirette dei clienti di rinegoziare le loro commissioni allora partiamo sempre da un presupposto il vero datore di lavoro non è la società mandante ma il cliente perché è lui che paga per avere la nostra consulenza allora dal punto di vista dei clienti più grossi in maniera molto naturale uno potrebbe pensare sicuramente la richiesta di diminuzione delle fee di sconto sulle fee arriverà dai clienti più grossi io sono convinto che in parte deriverà dai clienti più grossi perché perché il cliente più grosso per definizione più grosso in termini di asset under management cioè quel cliente che nella classifica del tuo portafoglio è dal primo al decimo posto per dimensioni del capitale che ti ha affidato ecco vedo abbastanza improbabile che provenga da loro questa richiesta perché perché in fondo questi sono clienti che tu segui e che segui con costanza e che quindi percepiscono anche il valore per cui stanno diciamo investendo del denaro per farsi consigliare da te una minaccia importante potrebbe in realtà derivare da quella parte di portafoglio che non è seguita da te ma che esiste che c'è in questo momento e che prima della MIFI 2 ti potevi anche permettere di non visitare di non assistere perché tanto comunque questa sorta di rendita di posizione continuava a generare ricavi oggi un cliente da 20-30 mila euro che si vede recapitare l'estrato conto verità vede che sta pagando delle commissioni ma vede anche che parte di queste commissioni sono destinate ad un consulente che non vede probabilmente si farà qualche domanda e forse potrebbe essere spinto a dire beh visto che non vedo il consulente perché evidentemente ho poco denaro a questo punto torno in banca tradizionale perché se non altro con tutti i difetti che può avere la banca tradizionale almeno lo sportello in paese ce l'ho ho un interlocutore che se vado dentro qualche informazione me la dà e quindi grazie e arrivederci quindi attenzione perché la compressione dei margini potrebbe arrivare da quel pezzo di portafoglio rappresentato da clienti piccoli faccio una premessa sul tema dei clienti piccoli attenzione già la scorsa volta parlavo di quanto fosse elevato il costo orario del consulente finanziario dobbiamo sempre farci delle domande se alla luce del costo orario molto elevato che un consulente finanziario ha se possa valer la pena di continuare ad assistere i clienti piccoli perché ti ricordo ma ti invito ad ascoltare la puntata 25 dell'imprendi promotore podcast un consulente finanziario che fattura 100.000 euro ha un costo orario di 104 euro conseguentemente un cliente che avesse 30.000 euro non è in grado di poter generare una sufficiente management fee per permettere che il consulente finanziario lo visiti 4 o 5 volte perché perché 5 visite da un'ora farebbero andare assolutamente in perdita l'impresa del consulente finanziario in virtù del fatto che sta pagando l'impresa il proprio consulente in maniera molto profumata per fare un'attività che ha basso ritorno economico e quindi che cosa fare ci sono una serie di soluzioni soluzioni che sono molto importanti credo nel panorama per poterti permettere chiedo scusa di continuare a mantenere una buona marginalità una prima soluzione è quella dell'aumento della produttività parliamoci chiaro mettiamocela via sicuramente oggi per poter continuare a mantenere un livello importante di ricavi è necessario aumentare lo sforzo perché è così ma perché è il segno dei tempi accade negli altri settori era inevitabile che accadesse anche nel settore della consulenza con la clientela grossa in questo caso con la clientela importante credo che sia fondamentale per poter sostenere i margini aumentare la qualità e la quantità del servizio a parità di costi sto registrando questa puntata del podcast in uno degli hotel visto che sono in giro per l'Italia in questi giorni ed è stato significativo come ieri sera per esempio appena arrivato mi proponessero a parità di prezzo un upgrade e io questo l'ho apprezzato molto perché perché di fatto il dare qualcosa di più importante allo stesso prezzo è un'ottima occasione per evitare di chiedere lo sconto perché il cliente possa chiederci lo sconto quindi in questo caso potrebbe essere il fatto che nel momento in cui io affronto un cliente importante potrei io di mia spontanea volontà già offrirgli un upgrade e un consulente finanziario per upgrade potrebbe per esempio proporgli di vederci una volta in più proporgli di invitarlo almeno due volte a degli eventi cosa che uno non faceva prima insomma tutto quello che può permettere di aumentare il valore percepito a parità di costi è un'ottima politica di difesa dalla riduzione o dalla richiesta di riduzione dei margini per i clienti più piccoli invece una soluzione potrebbe essere appunto quella di dir loro o venite a trovarmi in ufficio e a questo punto istituire un giorno alla settimana dedicato ai clienti piccoli dove tu non ti devi assolutamente schiodare dalla sedia e a quel punto riceverai 10 visite di clienti cadenzate di mezz'ora in mezz'ora oppure un'altra ipotesi potrebbe essere proprio quella di sfruttare la tecnologia perché oggi anche le persone anziane utilizzano lo smartphone anche le persone anziane ad esempio sono in grado di poter fare delle videochiamate a questo punto perché non assisterli attraverso una videochiamata magari una visita sarà sempre di persona ma le restanti tre delle quattro complessive che è riabituato ad erogare a questi clienti durante l'anno e andando da loro di persona magari verranno di fatto erogate attraverso una video call e quindi l'utilizzo anche della tecnologia sicuramente potrà metterti nella condizione di ottimizzare i tempi e di difendere i tuoi margini margini che poi ti consentiranno di fare investimenti di continuare ad investire nella tua impresa perché ricordati a guidare il tutto è sempre devi sempre tenere come punto di riferimento nella scelta che tu farai delle attività che intendi intraprendere perché ricordati sempre che il come utilizzi il tempo è determinato da delle tue scelte ed è evidente che nel momento in cui ho trattato questo tema nella puntata precedente quanto più tu hai come punto di riferimento il tuo costo orario tanto più sarai portato a ragionare in termini di ritorno sull'investimento e quindi a destinare il tuo tempo a quelle attività ad alto ROI e le attività ad alto ROI che piacciono sono quelle che prevedono che tu stia di fronte a dei clienti sia con visite one to one sia con per esempio attività di seminari finanziari o qualsiasi altra cosa che ti consenta di poter continuare a coltivare nuove relazioni l'altra cosa importante per mantenere i margini alti è un lavoro di retroguardia importante che devi fare sulle tue competenze perché proprio grazie al miglioramento delle competenze che verrai percepito sicuramente come un professionista che si distingue rispetto alla massa e quindi ti consentirà anche di in una logica di domanda e di offerta la tua unicità farà sì che essendo tu unico la domanda di te sarà più elevata e questo ti consentirà di alzare anche io sono convinto i prezzi o mantenere comunque i prezzi ad un livello tale che giustifichino anche il fatto che tu sei un professionista affermato sei un professionista specializzato nel risolvere determinati problemi sei un professionista che mette nella condizione i clienti di non correre particolari particolari rischi da quello che hai appreso durante questa puntata dell'imprendi promotore podcast la compressione dei margini è indubbiamente una delle sfide più importanti che il settore dei consueti finanziari si troverà a dover affrontare sono molto ottimista sul fatto che questa sfida potrà essere vinta cambiando però completamente il modo di interpretare la professione avendo la capacità quindi di mettere in campo tutte quelle competenze organizzative relazionali utili da un lato ad aumentare la tua produttività e a efficientare il tuo processo di assistenza ai clienti in modo tale da far percepire loro un maggior valore dall'altro lato nel puntare dritti a far sì che la percezione di questo valore venga ad esempio si renda concreta attraverso una customer experience con standard molto elevati customer experience che però sarà anche fortemente condizionata dalle competenze nuove e utili che sarai stato in grado di mettere a disposizione il cliente ma che nel frattempo tu avrai acquisito grazie allo studio per chi vorrà continuare a portare avanti la professione nello stesso modo con il quale l'ha condotta negli ultimi 30 anni temo sarà inevitabile registrare una riduzione importante dei propri margini e tutto ciò sarebbe se tu ci rifletti un vero peccato anche perché ti è costato fatica a costruire quello che hai costruito fino adesso e quindi riuscire a continuare a mantenere questo livello importante credo sia fondamentale per il tuo futuro ma soprattutto anche per il futuro della consulenza della consulenza finanziaria prima di concludere questo episodio voglio invitarti ad iscriverti al canale telegram dell'imprendipromotore che cos'è il canale telegram dell'imprendipromotore immagina di avere a disposizione un canale radio on demand con contenuti specifici che possono aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ogni mattina a partire dalle 7 puoi ascoltare un contenuto audio che ti offre dei consigli e suggerimenti per dare sprint al tuo business di consulente finanziario per unirti al canale è semplice scrivi www.telegram imprendipromotore punto it ripeto www.telegram imprendipromotore punto it e verrai ridiretto al canale a quel punto clicca il tasto unisciti o se hai la versione inglese di telegram clicca il tasto join per oggi è tutto io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ciao alla prossima puntata hai ascoltato l'imprendipromotore strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino per informazioni domande e suggerimenti scrivi a info chiocciola imprendipromotore punto it la prossima puntata